L'Avis da circa 90 anni è al fianco dei malati italiani, attraverso la raccolta sangue. Oggi il suo furgoncino approda a San Potito Sannitico. Abbiamo ascoltato uno degli organizzatori. Luigi, quando e come approda l'Avis a San Potito Sannitico? L'Avis a San Potito nasce intorno agli anni 80 grazie alla sensibilità del dottor Carlo Antonio Giordano, il medico di base è oggi scomparso, che ricordiamo sicuramente, ricordiamo ogni volta che ci riuniamo con il consiglio direttivo. Nel 2003 invece l'Avis di San Potito viene riconosciuta come associazione a livello nazionale, come sezione comunale di San Potito, che oggi conta circa 65 donatori effettivi, tutti volontari, con un consiglio e con un direttivo di 5 persone. Quanto è importante donare e soprattutto quanto è importante farlo in procinto dell'estate? Guarda, la domanda è interessante perché in effetti spesso il problema che abbiamo noi come gruppo di San Potito, ma sicuramente a livello nazionale, è che in procinto dell'estate purtroppo dati statistici ci insegnano che aumentano gli incidenti traumatici e quindi aumenta la necessità di sangue. Che cosa significa questo? Che spesso ci ritroviamo, e questa è una cosa importante, spesso ci ritroviamo di fronte a un problema grave che è quello che le unità operative complesse, gli ospedali, in procinto di entrare in sala operatoria chiedono ai pazienti dei donatori perché purtroppo non sempre queste unità sono dotate di un'emoteca e quindi di una banca del sangue. A questa cosa se ne può aggiungere un'altra, che purtroppo quando ci sono degli episodi traumatici o comunque le famiglie sono condizionate dal dover subire un congiunto, deve subire un intervento, non ha la mente ferma a poter cercare di trovare un donatore e quindi si rivolgono a noi. L'appello che noi facciamo è proprio questo, cioè non ricordiamoci che c'è bisogno di sangue soltanto in emergenza ma c'è bisogno di sangue sempre. Ricordiamo inoltre che donare è molto semplice. Donare è semplicissimo, noi qui a San Potito facciamo almeno due donazioni all'anno dove raccogliamo circa 60, 70, anche 80 sacche che con circa un quarto d'ora del proprio preziosissimo tempo si riesce a fare un atto di bene che è riconosciuto sicuramente in modo internazionale. Purtroppo si fa sempre la stessa cosa, è sempre ovunque, è sempre uguale. È un piccolo ago che entra in un'arteria e si preleva questo sangue. Grazie Luigi. Mi piacerebbe raccontassi ai nostri spettatori la tua esperienza come donatore Avis. No, è una bella esperienza. È una cosa che, a parte un gesto che aiutiamo gli altri, ma è anche una cosa buona per noi stessi in modo tale da avere le analisi e un controllo. È una cosa semplice, veloce, basta poco. Penso che possono tutti quanti aiutare il prossimo con questo gesto. La donazione, un gesto veramente semplicissimo ma fondamentale, lo possiamo ricordare? È importantissimo, è importantissimo. Sia per il gesto altruismo che fa il donatore nel dare il proprio dono a chi ne ha bisogno e poi anche perché riceve una serie di accertamenti e analisi gratuiti. È una cosa importantissima per tante altre persone perché molte volte la gente non si rende conto di cosa vuol dire donare sangue. La vedete sotto una forma di una semplice donazione, invece no. È un grande atto d'amore in particolar modo per chi ne ha bisogno perché non ci rendiamo conto quanta gente, magari malata di lucemia, di interventi che sopravvivono solo ed esclusivamente con la donazione di sangue. Quindi è una cosa importantissima. La tua prima volta come donatrice oggi, cosa si spinge ad essere qui? Sì, assolutamente. Sicuramente è un gesto che si fa in realtà molto semplice però vale tantissimo perché chiaramente si fa qualcosa per gli altri però fa star bene soprattutto se stessi. Quindi io consiglio vivamente tutti di fare questo gesto perché penso che faccia stare veramente bene con se stessi e con gli altri. Quindi fatelo veramente. Basta poco. Da San Potito Sannitico è tutto, Luisa Porto per casertasera.it